Sì, sono papairox e ho una voce rauca! Siamo tornati su, caro, vediuti e sono come me lì! Sì, sì! Ho una voce rauca oggi ragazzi! Come sempre! Oh ragazzi siamo un po' di giaccio proprio la prima volta che ci registriamo! Sì! Tu guardi io ti copro! Quest'arma fai schiccio! Guarda, guarda, squadra, sessi! Odio gli umani, punto e basta! Perché odio gli umani? Ma male è nostro amico! Tipo questo umano? Che è un robot? Come me e te? Oh cazzo! Vabbè! Tu guarda io ti copro! Ok! Mi ho tirato da due! Oh mio Dio! E se sei colpa! Avrete un brutto momento! Senza anima e colpo! Ok! Ma quanto schifo fai! Io vado a disdiscare quell'altro! E tu pensa a proteggere! Aaaaaaah! Ah io! Mi hanno massacrato per colpa tua! Mi hanno... Mi hanno massacrato me per colpa tua! Ok! Sei morto! Nooo! Non c'è nessooo! C'è qualcuno! Mi c'è un lato da kill! Vado a proteggere! Ah! Ti odio! Oh mio Dio! Ok! Andiamo! Nooo! Cazzo! Arrivano in centinaia, sess! Vedo! Ti aiuto! Non potete contattarmi! Cazzo! 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 Ne ho ucciso uno! Cazzo! Perché non c'è niente? Guarda tanto che ne ho fai le stupide battute! Tipo? Tipo quale che va... Cazzo! Dio mi piace! Ma non c'è niente! L'ho danciata io quella bomba! Ahahahahahah! Si lo so! Oh ma non c'è niente! Ahahahah! E' proprio che su questo gioco non ci siano! Sono sensazionale! Che cosa? Cazzo! 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 Oh mio dio! Guarda come difendo bene io! E' un grande papaius! Oh mio dio! Oh mio dio! Cosa ho in mano? Ma la persona mia! Sto camperando! Sto camperando! Sto camperando! E' un altro del te! Sono in pausa! E' un altro del te! E' un altro del te! Sono in pausa! Mi sta bombardando con tutto quello che hanno! Ahah! Cazzo! Sto inutile! Ahia! Nooo! Cazzo! Cazzo! Possa pigre, muove il cuore! So come ucciderli! Con un trombone! Cazzo, veramente stiamo perdendo! Guarda fin vista! Non mi interessa, sono in pausa! Cazzo! Basta così! E' un stupido cazzo! No! sono sensazionale oh mio dio no aiii scusa hai dovuto abitarti dai sopporto ok compro le spalle non sono un po scoperto non credi si lo siamo io stavo occupando suicidio oh mio dio non è un umano quello non è un umano ma se vuoi sei eccitato di venire a questo posto dov'è grimace dov'è maledetti umani ho finito le munizioni allora vai il suo cadavere prendigli avanti dai dove sono non prendertela a me con me sono figuro faccio io quella cosa dovresti fare te fare cosa te se ne scorda le bombe quali bombe ok ragazzi mi sono distrutto la gora ragazzi per dubbiare madonna cara i chris che non vuole doppiare sans come i chris fai schifo su un punto di vista cos'è senso pigro hai detto una cosa vabbè senso pigro devi dire cose volgari quando sei con senso non mi direbbe mai senso pigro io ho fatto il pigro fai anche schifo ti devi fare il pigro allora facciamo facciamo cambio il cerbero è grosso ok basta basta ragazzi basta con la gola la mia gola chiede pietà infatti all'inizio vedeva vero devo tossire oh vai su A vai su A me la capo io su B tu sta su A protegge il cerbero cristo avevo pensato il cerbero come hanno fatto il cerbero è stupido il cerbero è pigro come me il cerbero è senza il cerbero è potente ma pigro da dire al senso non è inutente perché ha un solo punto di vista e vabbè ma un perumato tutti oh cavoli mi senta quella la voce di papyrus che mi si suona nelle orecchie concentriamoci su A quale ha avuto il cerbero è salzato eh sì un attimo di pirezza è come sempre ok ah dobbiamo distruggere ok ah è andato ah non ho nessuna ricorda no come non è ancora andato ho paura che adesso è andato non possono riuscirci non possono non possono ok è andato quanti sono morti oh mio dio guarda quanti sono morti ok piazza tutto quello che hai sai cosa è successo mi ha dato mega uccisione su serio si perché mi uccisi tipo un fratello ok fino un po' se mi ammazzo mi ha ucciso il cerbero mi è caduto in testa e mi ha ucciso no sul serio si ma fai schifo no dai l'ho fatto apposta ah mi sono messo là no perché sennò in tutta la mappa cadere è l'unico punto che ci sarebbero ah ok vera ciao due robe decenni ma io ho un tank spottuto madonna mia quanto fa schifo questo bazooka madonna vieni qua non è il bazooka che fa schifo è lo schifo che ho maletanata abbiamo vinto questo è troppo facile ragazzi ma noi abbiamo stuprati a 72 giorni contro quarta però vedi quattro ma ho stato bravo togli fai togli che cosa hai fatto cristo epilettico ma è brutto vedere quando muoiono così si questo qua questo qua questa tosse è il risultato di un quarto d'ora di papai riuscire Gabriele mi divertirò a scontarla ciao a tutti sono stufo come ci stufo ah ok